Musica Sul fronte legato all'emergenza coronavirus continua il monitoraggio relativo all'andamento dei casi sia a livello regionale che nazionale. Ripartiti con un decreto del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze i 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 in sicurezza per la Sicilia in arrivo poco meno di 33 milioni di euro. Con l'obiettivo di aumentare il numero dei vaccinati il comune di Biancavilla ha ripreso la cosiddetta vaccinazione di prossimità. Attività finalizzata al contrasto nel settore delle cave abusive di Basalto Lavico, quella effettuata dai carabinieri del Noe di Catania. Sequestrata a Ragalna una cava abusiva in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Tre le persone denunciate. Svolta sulla morte di Anthony Bivona, il 24enne Adranita ritrovato impiccato a luglio in Germania. I familiari non credono al suicidio e hanno richiesto ufficialmente la riapertura del caso. Lotta al lavoro sommerso. 13 lavoratori in nero su 13 presenti e cibo non tracciato. Chiuso un bar a Zafferano Etnea. Buonasera, benvenuti a questo nostro consueto appuntamento con l'informazione di Chuck News. Sul fronte legato all'emergenza Covid continua il monitoraggio relativo all'andamento dei casi sia a livello regionale che nazionale. Come sempre tutti i dettagli nel primo dei nostri servizi. Sono 7.224 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del Ministero della Salute. Sono 49 invece le vittime in un giorno in lieve calo rispetto alle 55 di ieri. Per quanto riguarda i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono esattamente 455. Dati dunque che confermano come la situazione rimane preoccupante anche perché la circolazione della variante Delta è ormai largamente prevalente in Italia e dominante in Europa. Ma il contagio sale soprattutto in Sicilia, anche se nell'isola arriva uno sospiro di sollievo poiché per il momento resta in zona bianca. Ma potrebbe essere solo un rinvio perché la nostra regione continua a far registrare i dati peggiori del Paese. I nuovi positivi toccano infatti quota 1.508 nelle ultime 24 ore. L'isola infatti resta dal primo posto per nuovi contagi giornalieri. 12 i decessi. Sul fronte ospedaliero sono adesso 746 ricoverati, 83 in terapia intensiva. Per quanto riguarda il nostro territorio stabile la situazione ad Adrano con 42 positivi in città di cui uno ricoverato in ospedale. A Biancavilla invece ci sono 20 positivi e due ospedalizzati. L'ordine dei medici di Siracusa, dopo aver ricevuto gli elenchi dall'ASP ed aver fatto tutti i dovuti accertamenti, ha sospeso 49 medici non ancora vaccinati. Il medico che può e non si vaccina, ha dichiarato il presidente Anselmo Madeddu, è un pessimo esempio per la società. Le regole si rispettano così come le indicazioni della comunità scientifica accreditata, altrimenti è meglio cambiare mestiere. Ha continuato Madeddu, vaccinarsi non è solo un atto di attenzione per la propria salute, ma anche un dovere civico ed una necessaria tutela che ogni medico deve garantire ai propri pazienti ed assistiti. La sospensione durerà fino al 31 dicembre, eccetto per coloro i quali nel frattempo si dovessero vaccinare e comporta il divieto di lavorare a qualsiasi titolo, sia come medico dipendente che come libero professionista. Ripartiti con un decreto del ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, i 350 milioni di euro stanziati dal decreto sostegni bis al fine di garantire l'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 in sicurezza. Per la Sicilia in arrivo poco meno di 33 milioni di euro. Per quello che concerne l'organizzazione e l'avvio in sicurezza del nuovo anno scolastico firmato nei giorni scorsi dal ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi, d'intesa con il ministero dell'economia e delle finanze, il decreto relativo alla ripartizione tra le istituzioni scolastiche statali delle risorse da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi, in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021-2022 per finalità connesse all'esigenza di contenere il rischio epidemiologico da Covid-19. A tal proposito in Sicilia stanziati poco meno di 33 milioni di euro, parte dei 350 milioni relativi al decreto sostegni bis. Questi fondi, così come specificato, potranno essere impiegati dai dirigenti scolastici per l'acquisto di dispositivi di protezione e di materiale per l'igiene individuale o degli ambienti, ma anche per interventi a sostegno della didattica per gli studenti con disabilità, disturbi specifici di apprendimento e altri bisogni educativi speciali, poi ancora per potenziare gli strumenti digitali, favorire l'inclusione e contrastare la dispersione scolastica attraverso il potenziamento dell'offerta formativa. Le somme potranno essere utilizzate anche per adattare gli spazi interni ed esterni degli istituti, al fine di garantire lo svolgimento delle lezioni in sicurezza o per l'acquisto di servizi professionali di formazione e di assistenza tecnica, per la sicurezza sui luoghi di lavoro o ancora per l'assistenza medico-sanitaria e psicologica. Sarà possibile acquistare strumenti ritenuti utili per migliorare le condizioni di sicurezza all'interno degli istituti. Con il decreto firmato al vaglio degli organi di controllo, viene resa nota la somma a disposizione di ciascuna scuola. L'assegnazione dei fondi avverrà così come specificato nei prossimi giorni, insieme all'avvio di una nota specifica che il Ministero dell'Istruzione fornirà alle scuole con tutte le istruzioni operative per l'utilizzo delle risorse, previsto un supporto attraverso l'Help Desk per l'emergenza. Con l'obiettivo di aumentare il numero dei vaccinati, il Comune di Biancavilla ha ripreso la cosiddetta vaccinazione di prossimità. Il Comune di Biancavilla riprende la vaccinazione di prossimità. Basta inviare una mail per fissare un appuntamento. A Biancavilla si muove lentamente il numero dei contagiati, con la caratteristica comune in tante altre città che ad essere contagiati sono per la maggior parte cittadini non vaccinati. Si legge in una nota del Comune biancavillese, con l'obiettivo ben preciso di allargare quanto più possibile la base dei vaccinati, la mia amministrazione, dice il sindaco Antonio Bonanno, ha deciso di rafforzare la cosiddetta vaccinazione di prossimità, avviata nelle settimane scorse e pronta a ripartire, mettendo a disposizione un indirizzo mail per prenotare la vaccinazione. Basta scrivere all'indirizzo vaccino covid, chiocciola comune.biancavilla.ct.it per prenotare l'inoculazione del siero. Un addetto dell'ufficio covid si premurerà di contattare gli interessati, dando loro indicazioni, ben precise sul giorno e luogo della vaccinazione. La campagna massiccia di vaccinazione avviata nei mesi scorsi al Com e nei centri vaccinali dell'ospedale e del PTA di Adano può e deve riprendere anche ad agosto e settembre, se tutti comprendiamo, aggiunge il sindaco Bonanno, che la sola via d'uscita dall'emergenza pandemica è rappresentata da una vaccinazione capillare. E adesso cambiamo argomento. Attività finalizzata al contrasto nel settore delle cave abusive di basalto lavico, quella effettuata dai carabinieri del Noe di Catania, sequestrata a Ragalna, una cava abusiva in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Tre. Le persone denunciate. A Ragalna, sequestrata dai carabinieri del Noe, nucleo operativo ecologico di Catania, in sinergia con i militari della locale stazione, una cava abusiva di basalto lavico. Individuata dai militari dell'arma, un'area di circa 2000 metri quadri incontrata a fossa lupa. L'area in questione, che così come precisato dai carabinieri, presentava una particolare caratteristica, ovvero quella di essere costituita da una collinetta emergente dal sottosuolo, interamente costituita da basalto lavico, risulta essere inserita nel piano paesaggistico della regione siciliana, con contestuale vincolo paesaggistico forestale di massima tutela. Nonostante questo, il proprietario dell'area, in assenza di qualsiasi autorizzazione, avrebbe consentito che la zona venisse fatta oggetto di scavi abusivi finalizzati all'estrazione non autorizzata del basalto lavico presente sotto ad un iniziale strato di terreno vegetale. I militari del nucleo operativo ecologico hanno sorpreso in flagranza di reato il dipendente di una ditta del luogo operante nel settore movimento terra, mentre attraverso l'impiego di un escavatore effettuava operazioni di sbancamento mirati alla successiva asportazione e commercializzazione del materiale estratto. Scattato dunque l'immediato sequestro della cava abusiva e del mezzo impiegato, sequestro convalidato dall'autorità giudiziaria. Il proprietario dell'area, il titolare della ditta e il dipendente che si stava occupando dell'esecuzione degli scavi abusivi sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Catania per l'esecuzione di opere non autorizzate in area sottoposta a vincolo paesaggistico e per le violazioni conseguenti alla mancata comunicazione agli enti competenti, comune e distretto minerario di Catania, delle attività minerarie condotte in assenza di autorizzazione. Svolta nella morte di Anthony Bivona, il 24enne Adranita ritrovato impiccato a luglio in Germania. I familiari non credono al suicidio e hanno richiesto ufficialmente la riapertura del caso. Sentiamo. Potrebbe fare registrare una clamorosa novità la morte del 24enne Adranita, Anthony Bivona ritrovato impiccato lo scorso mese di luglio nella sua abitazione in Germania. Una morte archiviata come suicidio dalle autorità tedesche una verità alla quale non credono affatto i familiari del ragazzo e per questo motivo hanno ufficialmente richiesto l'apertura dell'inchiesta nella sostanza e chiedono che si indaghi sulla morte del giovane che sarebbe avvenuta in circostanze poco chiare. Secondo i familiari ci sarebbero anche delle incongruenze sul ritrovamento del cadavere nella casa in Germania dove Anthony viveva. I suoi parenti dunque non credono affatto al suicidio e chiedono la riapertura del caso. Al riguardo è stato presentato un esposto a seguire la famiglia Bivona ci sono due avvocati uno in Germania e l'altro ad Adrano. A chiedere la verità sulla morte di Endoni anche le due sorelle che vivono ad Adrano e che ci hanno detto a chiare lettere che intendono andare sino in mondo per conoscere la verità sulla morte del loro amato fratello. Sulla vicenda Grazia Bivona ha scritto anche un post su Facebook gran parte di Adrano si è fatta sentire vicina al nostro dolore scrive Grazia ed è per questo che finalmente abbiamo riaperto il caso mio fratello deve avere giustizia. I funerali di Endoni sono stati celebrati nella chiesa di Santa Lucia di Adrano il 23 luglio scorso una partecipazione commossa da parte dei suoi familiari e dei suoi tanti amici Endoni era un ragazzo dal cuore d'ore sensibile e con la voglia di vivere in tanti non credono che si sia tolto la vita per questo adesso chiedono che vengano approfonditi alcuni aspetti oscuri sulla sua morte per fare chiarezza su un ragazzo per bene e a confermare questa tesi sono i familiari di Endoni i quali evidenziano i post sui social in cui il ragazzo scriveva di essere fiero di ciò che era nella vita. Continuiamo con la cronaca nera lotta al lavoro sommerso 13 lavoratori in nero su 13 presenti chiuso un bar a Zafferana Etnea. Nel corso di un servizio finalizzato al controllo delle attività produttive industriali e commerciali ambito emergenza Covid-19 i carabinieri della stazione di Zafferana Etnea coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Catania e dal personale del Dipartimento Prevenzione Veterinaria 10 Reale dell'ASP di Catania hanno ispezionato diversi locali riscontrando la presenza in un bar a Zafferana Etnea di ben 13 lavoratori subordinati senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro 13 su 13 presenti nonché all'interno dei banchi frigo dell'esercizio pubblico la conservazione di 13 kg di carne mista priva di tracciabilità al termine del controllo è stata disposta dal personale dell'ASP la sospensione delle operazioni di ristorazione con somministrazione di alimenti e bevande a tempo indeterminato fino alla messa a norma delle carenze igienico-sanitarie riscontrate complessivamente sono state irrogate sanzioni amministrative per oltre 60.000 euro ed operati recuperi IMS e INAIL per oltre 15.000 euro e con questo servizio concludiamo l'edizione di questa sera del nostro telegiornale grazie per aver scelto la nostra informazione a tutti voi un buon proseguimento di serata grazie per aver guardato il nostro canale